Oggi sappiamo che in diverse parti d'Italia, soprattutto in Emilia Romagna, le imprese non riescono a soddisfare le esigenze di profili professionali adeguati alle nuove caratteristiche. Detto questo, bisogna anche riconoscere che la quarta rivoluzione industriale sta ponendo problemi non solo sul fronte del lavoro, ma anche sul fronte propriamente etico, alludo al fenomeno del cosiddetto transumanesimo. Su questo purtroppo in Italia non se ne fa parole ed è un male, bisogna invece porsi il problema. Con transumanesimo si fa riferimento al tentativo da parte di alcuni grossi centri di ricerca, localizzati soprattutto nella Silicon Valley negli Stati Uniti, in California, di sostituire l'uomo, il cosiddetto processo dell'intelligenza artificiale super intelligente, eccetera. Anche su questo occorrerebbe aprire un dibattito, perché nessuno vuole fermare il corso della tecno scienza, però bisogna anche capire che queste novità vanno governate, perché diversamente è come un fiume che quando in piena, se non è incanalato, produce disastri.